Benvenuti su News Per Te. Sono stati divulgati alcuni dettagli sulla vita privata di Pier Silvio Berlusconi che probabilmente conoscono in pochi. Resta con noi fino alla fine e iscriviti al canale per scoprirli. Pier Silvio Berlusconi è nato nel 1969 figlio del primo matrimonio di Silvio Berlusconi. Attualmente Pier Silvio è azionista di Fininvest e ricopre la carica di vice presidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset. Una figura di notevole rilevanza a cui il padre Berlusconi ha lasciato una considerevole eredità. Queste sono informazioni che sicuramente già conoscete invece potrebbe non essere noto a tutti che Pier Silvio è diventato nonno grazie a sua figlia Lucrezia Vittoria. Ebbene sì Pier Silvio è diventato padre a 21 anni prima di iniziare la sua relazione con Silvia Toffanin. Lucrezia è nata nel 1990 dalla sua precedente relazione con la modella Emanuela Mussida. Nel 2021 Lucrezia ha dato alla luce un bambino portando gioia al suo papà Pier Silvio. Dal 2002 Pier Silvio ha intrapreso la sua attuale storia d'amore con Silvia Toffanin dalla quale sono nati due figli Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. E voi ve lo sapevate? Fatecelo sapere in un commento e lasciate un like. E ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti.